Ben ritrovati anche per la pagina sportiva del Tigino e l'apertura doverosa al calcio, al calcio mercato alla Lucchese, colpo triplo della società rossonera con tre nuovi acquisti presentati nella sala stampa del Porta Elisa. Lo aveva detto pochi giorni fa la presentazione di Bianchimano, il mercato della Lucchese è appena iniziato e così è stato. Venerdì pomeriggio nella sala stampa del Porta Elisa il direttore sportivo De Oma e i massimi dirigenti rossoneri, presenti anche il presidente Vichi e il direttore generale Santoro, hanno presentato ben tre acquisti e che acquisti? Rosario Maddaloni, Davide Di Quinzio e Andrea Tiritiello. Nel dettaglio Rosario Maddaloni arriva dal Cesena e ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo che lo lega alla Pantera. Difensore duttile e di grande esperienza può ricoprire indifferentemente tre ruoli della difesa impostata da Maraia. Davide Di Quinzio arriva in prestito dal Pisa dopo aver rinnovato per altri due anni il contratto con i nerazzurri. De Oma però pensa di farne un perno per il futuro della Lucchese. Centrocampista che agisce sulla fascia destra può essere impiegato anche come mezzala. Andrea Tiritiello sale invece dal profondo sud e da Cosenza. Difensore e marcatore arcigno è un elbano di Porto Azzurro ma non è venuto a Lucca solo per avvicinarsi a casa. Alla grinta è anche il fisico del guerriero. Tre elementi di assoluta esperienza che sicuramente alzano l'asticella tecnica agonistica della Lucchese. Il direttore sportivo De Oma arriva dito che il mercato non è ancora chiuso e che sta lavorando per altri due profili. Uno sarà un attaccante, magari piuttosto giovane, in quota. Intanto Cosimo Nannini salute, se ne va all'Arzignano. Annotazione finale con il direttore generale Santoro e il presidente Vichi, i quali hanno annunciato l'ingresso come main sponsor di Finanza.tech, azienda in crescita e in espansione rivolta alla cultura e allo sport, ma anche interessata ad accompagnare questa dirigenza nel progetto stadio. E allora la strada non poteva che portare a Lucca. Ora, in fondo al tunnel, forse si comincia a vedere un barlume di luce e di speranza. La notizia importante delle ultime ore per quanto riguarda il calcio femminile di Serie C è la rinuncia del Genoa. Ciò comporta che il girone A, quello della Lucchese, scende a 15 squadre e conseguentemente ci sarà un turno di riposo per tutte le formazioni che dovevano affrontare la formazione rosso-blu. Rimodulato anche il calendario, che però nella sostanza non cambia, la Lucchese di Carruezzo debutterà domenica 11 settembre in casa a Saltocchio contro il Freedom Cuneo. Il turno di riposo per Fenili e compagni è fissato all'ottava giornata, domenica 30 ottobre, e poi naturalmente anche nella corrispondente giornata del girone di ritorno, il 2 aprile 2023. Passiamo al ciclismo, al ventisesimo giro della Toscana Internazionale Femminile, doppio colpo di Martina Fidanza nella seconda frazione appunto della corsa organizzata da patron Brunello Fanini. La porta colori del team tedesco Wint Pro Cycling ha infatti conquistato la vittoria di tappa sul traguardo di Campi Bisenzio, sul traguardo di Campi Bisenzio che dopo diversi anni tornava ad ospitare una prova in linea. Martina Fidanza, figlia d'arte, 23 anni, ha avuto ragione in volata della polacca Katargina Wilkosch e dell'ex leader, l'altra polacca, Agneska Skalniak. Vi ricordiamo che sabato è in programma la terza tappa, la Segromigno Piano Porcari, Segromigno Piano di 116 chilometri, tutta in Lucchesia, più che mai una tappa nel ricordo di Michela Fanini cui è dedicata tutta la corsa. Siamo al tennis, dopo aver superato gli ottavi di finale in modo anche brillante, Jessica Pieri si è fermata ai quarti di finale nel torneo di Oldenzaal in Olanda. La tennista lucchese è stata battuta in due set dalla belga Magali Kempen che si è giudicata al primo set nettamente 6-0. Jessica ha avuto anche due set ball nella seconda partita ma alla fine ha ceduto 7-1 al tie-break, quindi 7-6. Finisce qui la sua corsa. Adesso passiamo al basket. avevamo già ricordato che il Basketball Club Lucca ha iniziato la preparazione da qualche giorno al Palatagliate, ebbene proprio in occasione del primo allenamento di stagione il Basketball Club Lucca ha ufficializzato l'ingresso in squadra, lo vediamo questa foto di Andrea Del Debbio, nato e cresciuto, cestisticamente parlando proprio all'interno delle quattro mura del Palasport di Lucca, sicuramente Del Debbio, è un ulteriore tassello importante per la squadra bianco-rossa di Coccia e Nalin. Siamo alla mountain bike, la mountain bike nazionale con i campionati italiani giovanini che torna fra un paio di settimane al Ciocco. Le due ruote sono state da sempre le protagoniste della storia della tenuta del Ciocco fin da lontano il leggendario campionato del mondo di mountain bike del 1991. Ora, sul Colle di San Quirico, il 17 e 18 settembre si svolgerà il campionato italiano Team Relay giovanile e anche il campionato italiano giovanile di società di mountain bike. Sarà un weekend scoppiettante e adrenalinico per i giovani campioni italiani. Si partirà sabato 17 con la prova del Team Relay, vinta lo scorso anno dalla Lombardia, per poi passare il giorno dopo all'ultima tappa del campionato italiano giovanile di società, dove si scoprirà il team vincitore, che avrà totalizzato il punteggio più alto nelle sette gare disputate tra Nord e Centro Italia. Dopo la quinta tappa, svoltasi a Gorizia lo scorso 12 giugno, la classifica vede al primo posto il James Bike Team Buia, con 672 punti seguito dalla società Le Marmotte Loreto 522 e al terzo posto, a pari punti, la società ciclistica Rostese e la Melavi Tirano Bike. Lo spettacolare fine settimana sportivo di settembre sarà arricchito da una gara di pump track giovanile nella Evolve Pump Track della tenuta del Ciocco, la pista al coperto più grande d'Italia. Si tratta di un avvincente circuito di due piste lungo 200 metri, dedicato sia ai biker più esperti che ai principianti, ideale per allenamenti in caso di pioggia, suddossi e paraboliche e per ospitare eventi durante tutto l'arco dell'anno. E con queste immagini sempre spettacolari del Pump Track dal Ciocco si chiude anche la pagina sportiva del TG Noi. Breve pausa, poi torniamo con la terza ed ultima parte.